Spesso mi viene fatta la domanda, ma dopo quanto tempo si vedono i primi risultati sul viso? E quanto tempo bisogna allenare il viso? Innanzitutto parto dal fatto che i muscoli facciali sono più piccoli rispetto ai muscoli del corpo, quindi richiedono meno tempo di allenamento. Poi dipende anche dall'età che la persona ha, perché i muscoli facciali reagiscono in un modo se tu hai 20 anni e in un altro modo se tu ne hai 60 o 70. Comunque, in questa mia esperienza da istruttrice di yoga facciale, posso dirti che ci vogliono 4 settimane in media di allenamento quotidiano per vedere i primi risultati. Poi è chiaro che c'è sempre qualche eccezione e qualcuno già dopo una settimana nota i miglioramenti, per qualcun altro invece ci vuole qualche settimana in più, ma in media ci vogliono 4 settimane di allenamento quotidiano. La durata ideale di un allenamento, secondo me, non deve superare i 15 minuti, perché dopo un po' i muscoli iniziano ad essere stanchi e si rischia anche di fare male l'esercizio e quindi anche di peggiorare la situazione delle rughe oppure dei muscoli. Un allenamento ideale deve avere la durata tra i 10 e i 15 minuti. Adesso spero di aver risposto anche alla tua domanda.